Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La prima campanella suonerà lunedì anche ad Ancarano, nel cuore della Val Vibrata. Il sindaco Angelo Panichi annuncia che tutto è pronto, servizio di trasporto scolastico compreso. Si torna in presenza, tutti nello stesso stabile, senza delocalizzare classi in altri plessi per paura del Covid, sperando che non ci siano troppi contagi. Lunedì 12 settembre si riapriranno le scuole anche ad Ancarano. I plessi interessati sono l'asilo presso Contrada Madonna della Carità e le scuole di Piazza Roma, dove ci sono le scuole elementari e le scuole medie. È tutto pronto, abbiamo anche riorganizzato tutto il trasporto. Abbiamo tenuto conto di quelle che sono le indicazioni ministeriali, in accordo con la professoressa Lucia Condolo, preside e dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo Sant'Egidio Ancarano, del quale facciamo parte. Chiaramente le esigenze sono state, sono venute meno determinate restrizioni, quindi gli studenti e le studentesse rientrano nel palazzo principale, non abbiamo dovuto fare ricorso a aule esterne per motivi di distanziamento. È chiaro che però dobbiamo tenere anche presente quelle che sono le indicazioni ministeriali che appunto in caso di Covid dovranno essere ripristinate le misure di distanziamento e anche qualora la classe avrà bisogno di più spazio, abbiamo anche previsto di spazi nei quali poi andranno a svolgersi le attività didattiche.